Dopo poco più di un mese i trofei Motestat ritornano in pista e lo fanno nuovamente il 27-28 luglio al circuito di Varano dei Melegari. Ci eravamo già divertiti un sacco alla prima tornata dove non siamo rimasti di certo annoiati dai riders del Messe che ogni volta ci regalano sempre grandi emozioni. Sul tracciato storico Riccardo Paletti la prima grande novità che risalta è la doppia gara che disputeranno la Sportbike e la Mille Open, quindi occhi puntati anche il sabato perché non ci saranno solamente le qualifiche. È un weekend importante anche per varie categorie che potrebbero avere una svolta come quello della Race Attack 600 in cui l'incontrastabile Alberto Bettella può consolidare la sua leadership e avvicinarsi sempre di più al titolo. Se invece guardiamo la Race Attack 1000 ci sono tre piloti in cinque punti per il campionato. Già da sabato mattina si vola in pista per le prove libere e il primo turno di qualifiche, poi le due gare del tardo pomeriggio a partire dalle 17-20. La domenica mattina invece dalle 1.09 ultimi ritocchi con il secondo turno di qualifiche che decideranno varie gredi di partenza. Ci aspetto un fine settimana importante e parecchio decisivo a Varano De Melegari, non si può assolutamente mancare.